ciao autrice lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale benvenuti in questo video che sarà un book tag ed è uno di quei book tag che io ripropongo ogni anno perché hanno a che fare con il periodo dell'anno in cui ci troviamo in particolare questo si chiama me dear freak out book tag ovvero il book tag di metà anno tenete presente che io lo sto girando ovviamente per questioni organizzative barra lavorative a metà giugno quindi fa riferimento diciamo ai primi cinque mesi e mezzo dell'anno non sono esattamente i primi sei mesi ma poco cambia penso immaginate che dovendo tenere in piedi un'organizzazione di questo canale tendo a girare un po in anticipo sono sempre le solite domande che mi sembra siano 12 quest'oggi vi mostro tutti i libri con le copertine qui anche quelli che possiedo in cartaceo perché sono reduce dal video del book haul di due anni fa e quindi ho qua di fianco una pila di cartaceo infinita e direi che ho dato per oggi con i libri da tirare fuori e rimettere in libreria vi faccio vedere tutto con le copertine mostrate qui faccio una piccola premessa cercando di non emozionarmi troppo è un anno in cui sto leggendo molto rispetto al solito principalmente perché ho passato un inverno molto raccolto e solitario avevo fatto un riferimento a questa cosa solitario forse non è la parola giusta ho continuato a frequentare le persone che per me sono veramente importanti ho forse ridotto un po la mia partecipazione ad eventi forse più mondani tra virgolette rispetto al passato ho continuato ovviamente a frequentare le persone che mi sono veramente tanto vicine ho continuato comunque ad organizzare gli scambi di libri mensili anche se quest'anno non sono riuscita ad organizzarli tutti tutti i mesi però insomma è un è stato un inverno un po più raccolto per me quello che è successo lo scorso autunno ovvero la perdita del nostro amatissimo gatto che è avvenuta in maniera molto molto improvvisa e anche un po' traumatica per tutti noi è un evento dal quale sono sincera sto ancora facendo molta molta fatica a riprendermi è qualcosa che mi ha travolta ci ha travolti e ho reagito cercando di prendermi il più possibile cura di me quindi se quello che vi racconto oggi rispetto ai numeri dei libri che ho letto sembra forse un po' esagerato io di queste cose non me ne preoccupo mai perché penso che ognuno utilizzi il proprio tempo come vuole e io mi sono ritrovata ad avere molto più tempo libero di qualsiasi anno precedente perché mi sono resa conto che la quantità di tempo che passavo con il mio gatto era molto più alta di quello che pensassi si è liberato veramente tanto tempo che era il tempo della cura nei suoi confronti e e questo tempo ho cercato di usarlo nel modo che mi piaceva stare meglio ovvero leggendo a volte rifugiandomi nella lettura credo questo sia il verbo più giusto e quindi se i numeri rispetto agli anni scorsi sembrano un po più alti e anche per questo io so di non dovermi giustificare di niente perché comunque il modo in cui io uso il mio tempo posto che ho comunque un lavoro a tempo pieno e una casa e un compagno e una vita come tutti noi so di non dover dare spiegazioni di nessun tipo rispetto al numero di libri che leggo però ecco sto leggendo di più degli anni scorsi e per me è sempre indice di qualcosa che non va esattamente come dovrebbe andare comunque vi ho già raccontato nel video della tbr estiva che sarà un'estate un po' tranquilla per vari motivi quindi conto comunque di continuare a leggere più o meno con questi ritmi forse nell'autunno potrebbe insomma cambiare ritmo questa cosa però ecco considererò che più o meno i ritmi a cui leggerò saranno questi perché quest'anno va un po' così ora questa premessa di cui non c'era bisogno l'ho fatta perché mi è capitato a volte poi di leggere dei commenti sotto a video di altre persone di questi media book tag oppure book tag di fine anno in cui si sente la necessità di commentare sul numero di libri letti dalle persone io so che chi mi segue non è così però se qualcuno fosse capitato qui per la prima volta e avesse voglia di commentare sul perché e per come ho letto così tanto insomma sappiate che ho fatto questa premessa anche per questo ma vando alle ciance perché di nuovo sono cinque minuti che parlo di cose che non c'entrano col book tag prima domanda è miglior libro letto fino ad ora quest'anno voi lo sapete che io non riesco a sceglierne uno quest'anno ne ho dovuti scegliere tre addirittura il primo è assolutamente benedizione di kentaruf io generalmente leggo kentaruf a fine anno quest'anno invece mi sono presa tutto il mese di gennaio per leggere benedizione che era il terzo titolo che mi mancava dalla trilogia della pianura ed è un titolo che lì per lì non me ne sono resa conto ma ho amato alla follia dico che non me ne sono resa conto perché è un po' diverso dagli altri titoli della trilogia della pianura devo dire in tanti modi comunque insomma è un po' diverso ma le riflessioni che ha lasciato dietro di sé soprattutto sulla malattia e la morte mi hanno colpita tantissimo quindi assolutamente finirà tra i libri preferiti dell'anno come tutti i libri di kentaruf letti finora poi il cardellino di donna tart anche questo letto ad inizio anno ed è un libro che ho amato veramente tanto più di quanto non mi sarei aspettata principalmente per l'aspetto puramente visivo e artistico di questo libro si vede che donna tart conosce benissimo la materia di cui parla non è un titolo che io ho trovato sopra le righe compiaciuto come appunto spesso si parla di lei e della sua scrittura ho amato le ambientazioni tantissimo il modo in cui si sceglie di raccontare la storia certo c'è sempre quel momento in cui donna tart parte con degli delle digressioni lunghissime io vorrei che ritornasse un attimo in carreggiata però per me è stata una lettura strepitosa e per un motivo simile ovvero l'ampio respiro da romanzo classico nonostante si tratti di un romanzo contemporaneo inserisco tra i miei preferiti di quest'anno anche demon copperhead di barbara king solver titolo che ha vinto il premio pulitzer e che oltre ad essere accomunato al cardellino appunto per questo impianto questo respiro da grande classico è accomunato anche da un protagonista veramente tanto sfortunato a cui ne succedono di tutti i colori e che cerca di navigare nella vita come può con gli strumenti che ha quindi questi tre assolutamente i libri più amati di quest'anno domanda numero due è peggior libro letto fino ad ora quest'anno voi sapete che per me è sempre faticoso definire il peggior libro però sicuramente quello meno nelle mie corde meno in linea con le mie letture a cui ho dato una possibilità per curiosità ma che purtroppo non rientra né nella mia comfort zone né nel tipo di libri che proprio io sento di apprezzare è l'immortale di katrin valente non è solo questione di non essere particolarmente avvezza al genere fantasy ma l'ho trovato un libro caotico e pieno di riferimenti che non conoscevo quindi non capivo quanto io mi stessi perdendo per via del libro in sé che era caotico e quanto dipendesse dal fatto che non conoscevo i riferimenti a cui appunto si accennava quindi per me è stata una lettura non soddisfacente domanda numero tre è quanti libri hai abbandonato senza averli finiti uno solo che conto di riprendere quest'estate ed è il circolo degli ex di massimo vitali questo è un libro un po più non dico leggero ma sì un pochino diverso da quello che leggo di solito ma è un libro che ho ricevuto dall'autore che ci tengo molto a finire lo avevo iniziato evidentemente in un momento in cui prediligevo poi sempre altre letture quindi gli darò una possibilità quest'estate e penso lo ricomincerò da capo ne avevo letto comunque una buona novantina di pagine quindi magari ripartirò dall'inizio leggendo velocemente ciò che avevo già letto per poi proseguire ma non è un titolo che ho abbandonato perché non volessi andare avanti ecco domanda numero quattro miglior graphic novel manga fumetto letto fino ad ora quest'anno credo di aver dato la stessa risposta all'anno scorso perché è una serie ed è heartstopper quest'anno ho letto il terzo e sto leggendo il quarto si riconferma una storia che amo alla follia non solo perché è di conforto molto dolce ma perché affronta temi importantissimi la scoperta della propria identità sessuale disturbi alimentari il bullismo e lo fa in un modo delicato ma profondo e che secondo me può aiutare veramente tanti adolescenti quindi stessa risposta dello scorso anno perché l'anno scorso ho letto i volumi 1 e 2 quest'anno 3 e 4 poi domanda numero 5 credo a questo punto quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno tenetevi forte 48 libri questi si dividono tra collaborazioni acquisti scambi e regali avete visto che con la crescita dei miei canali social quest'anno ho anche più collaborazioni in corso il che è una cosa che ovviamente mi fa estremamente piacere mi riempie di orgoglio di soddisfazione però ovviamente riempie anche i miei scaffali e quindi come vedrete dalla risposta successiva ho cercato di pari passo anche di lasciare andare dei titoli appunto la domanda successiva è di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno e la risposta è ben 42 quindi sono quasi in pari rispetto al numero di libri che possiedo anche qui 42 titoli e ne approfitto per fare un piccolo inciso all'inizio dell'anno mi ero ripromessa di fare i video book and haul in cui vi mostravo anche i libri che escono però ho realizzato di non riuscire a starci dietro perché i libri che escono dalla mia libreria quest'anno si dividono tra quelli che magari sono titoli che ho comprato in inglese e che riesco a rivendere ogni tanto poi ci sono i titoli che porto al negozio di beneficenza poi ci sono gli scambi su accio books che ho ripreso ad usare veramente con molto piacere ci sono gli scambi al mio gruppo mensile di lettura di scambio libri cosa sto dicendo è un gruppo di scambio libri e infine gli scambi quelli un po' random quindi per esempio appunto ad inizio giugno abbiamo organizzato insieme ad una mia amica uno swap party in cui si scambiava di tutto abbigliamento accessori borse chi più ne ha più ne metta in quell'occasione io ho anche portato dei libri mi sono resa conto che avendo così tanti canali tra virgolette e poi ci sono ovviamente i libri che in maniera del tutto spontanea e random magari porto a qualcuno perché io l'ho ricevuto in una collaborazione l'ho letto l'ho recensito però mi piacerebbe condividerlo con qualcun altro e quindi magari semplicemente li passo ad altre persone mi sono resa conto che non è possibile stare dietro a tutti questi vari canali che ho trovato per dare nuova vita ai miei libri in maniera regolare perché talvolta nella stessa settimana due libri trovano una nuova casa a fine settimana nella settimana successiva incontro un'amica a cui porto un libro insomma non riesco più a stare dietro alla modalità che avevo trovato per mostrarvi i libri che escono dalla mia libreria però ne sono usciti 42 ne sono molto contenta perché così cerco un po' di non dico avere una regola che per ogni libro che entra ne esce uno perché non riuscirai mai a impormi un ordine del genere però sicuramente continuare a fare spazio ai libri che non voglio tenere in maniera regolare poi alla prossima domanda io non so veramente come rispondere perché mi chiede quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto allora io in questo momento non ho acquisti in programma vorrei se possibile riuscire a aspettare l'estate ovvero il prossimo viaggio in Italia per fare eventualmente nuovi acquisti perché in questo preciso momento non ho acquisti in programma quindi direi che per ora sospendo il giudizio ho ovviamente come sapete una wishlist a cui faccio riferimento proprio per il discorso che vi ho fatto ad inizio video c'è un libro che mi interessa molto che metto qui non in quanto prossimo acquisto ma un po' come promemoria che si chiama proprio d'inverno mi sembra che il sottotitolo sia il potere del raccoglimento nei momenti difficili qualcosa del genere ve lo metto qui e poi ve lo segnalo qui sotto mi è sembrato un libro molto nelle mie corde soprattutto per l'inverno che ho appena vissuto quindi non sarà sicuramente il mio prossimo acquisto necessariamente però lo metto qui perché è un titolo che mi interessa poi l'unica domanda per cui oggettivamente vi mostrerò dei cartacei perché ce n'è bisogno è il libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno ne ho uno comprato e una serie in realtà ricevuta quello comprato è Felis Incubi di AB Editore che è strepitoso esteticamente stupendo non solo fuori ma anche dentro perché è pieno di illustrazioni ed è un libro sui gatti nei racconti gotici quindi gatti un po' inquietanti e poi ha questa copertina strepitosa e poi vi mostro la serie delle Dark Tales che mi è stata inviata da Vallardi che secondo me è una delle cose più belle che mai resteranno nella mia libreria ve li mostro uno alla volta c'è Spettri questo è stupendo Buio Notturno questi inizierò a leggerli credo a fine estate Insonnia Presenze che è un altro meraviglioso e Specchio e questi sono bellissimi credo saranno veramente la cosa più bella che rimarrà in eterno nella mia libreria poi domanda successiva è libri usciti di recente non ancora letti ma che vuoi leggere? ce ne sono due che ho ricevuto in due collaborazioni e che voglio leggere assolutamente quest'estate il primo è Tom Leight di Anne Patchett non so se sia reale ma questo libro mi manda delle vibes alla Fellowship Point non so perché ma ho la sensazione che potrebbe darmi le stesse sensazioni scusate la ripetizione lo stesso tipo di emozioni e di atmosfere leggendolo e poi la variabile Rachel che ho già messo nella mia TBR estiva che è un titolo di NN editore ambientato in Irlanda con una giovane protagonista che penso possa essere assolutamente nelle mie corde prossime uscite più attese della seconda parte dell'anno non sono sicura che sia seconda parte dell'anno ma credo sia imminente l'uscita ed è Somewhere Beyond the Sea o solo Beyond the Sea comunque il seguito che in realtà se non sbaglio è il prequel di La Casa Sul Mare Celeste dovrebbe essere il libro in cui si in realtà racconta uno dei personaggi della Casa Sul Mare Celeste e mi incuriosisce tantissimo e ho amato talmente tanto in maniera anche un po' inaspettata La Casa Sul Mare Celeste che mi piacerebbe recuperare questo credo insomma lo recupererò con calma però è proprio tra i miei desideri poi questa probabilmente è la domanda più difficile di tutte quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? ne ho messi cinque ma potevano essere mille allora Le Ceneri di Angela Motivazione l'ho iniziato a maggio poi l'ho abbandonato nonostante in tutto ciò io volessi leggerlo ad aprile ci tengo tantissimo a leggerlo perché più persone lo hanno paragonato a Un albero cresce a Brooklyn libro che per me l'anno scorso è stato veramente importante e anche qui mi piacerebbe ritrovare le sensazioni, le atmosfere, le emozioni che ho provato leggendo Un albero cresce a Brooklyn quindi assolutamente voglio recuperare Le Ceneri di Angela poi ricordatemi come vi pare che colgo l'occasione ora di mostrarvi perché l'ho ricevuto e non ve l'ho ancora mostrato ricordatemi come vi pare di Michela Murgia questo me l'ha regalato mio marito per il mio compleanno e vorrei leggerlo quest'anno perché è un po' il testamento ideale di Michela Murgia è un libro uscito postumo e ci tengo semplicemente tantissimo a leggerlo poi Blizzard che vi ho mostrato anche tra l'altro nella TBR estiva perché è uno di quei libri che proprio ha catturato la mia attenzione è un libro che non conoscevo e di cui appena ho letto la trama ho capito che era per me assolutamente quindi visto e messo subito nella TBR estiva e ci tengo un sacco a leggerlo perché mi sembra totalmente il tipo di libro per me poi Il rumore dell'acqua di Giulia Gaveglio che ho ricevuto dall'autrice che avevo messo in una delle TBR dei mesi scorsi non sono arrivata a leggerlo quando avrei voluto ma ci tengo tantissimo a leggerlo perché me lo ha inviato l'autrice per l'appunto quindi assolutamente lo recupererò nei prossimi mesi e poi Daphne ovvero la biografia di Daphne du Maurier questo ci tengo molto a leggerlo uno perché è un titolo che ho comprato all'inizio dell'anno scorso quindi se arrivo a leggerlo entro fine anno saranno comunque già quasi due anni che mi fa compagnia ma anche perché inizio ad aver letto un po' di titoli di Daphne du Maurier quest'anno non ho ancora letto niente ma sicuramente leggerò uno dei suoi titoli nei prossimi mesi e quindi mi piacerebbe anche di pari passo finalmente conoscere meglio la sua biografia e appunto recuperare questo titolo che è lì che mi guarda da un sacco di tempo e ci tengo veramente molto a leggerlo poi l'ultima domanda è quanti libri hai letto per ora e quanti pensi riuscirai a leggerne in totale quest'anno e qui appunto ritorniamo a tutto il discorsone che vi ho fatto all'inizio mentre stiamo chiacchierando quindi a metà giugno ho letto fino ad ora 40 libri questo è un bilancio un po' alto rispetto agli anni scorsi forse solo in uno degli anni della pandemia ho letto così tanto ma appunto tutte le cose che vi ho spiegato all'inizio spiegano anche il perché di questo numero un po' alto rispetto al solito se la situazione prosegue così immagino che potrei arrivare ad 80 libri quest'anno nonostante il mio obiettivo fosse 65 principalmente perché anche l'estate si preannuncia un po' tranquilla come vi raccontavo e anche la settimana di ferie che farò sarà molto non voglio dire sottotono ma molto tranquilla anche quella e quindi secondo me mi ritroverò molto a leggere probabilmente arriverò ad 80 libri non serve che io ripeta tutto il discorso per cui a me del numero di libri che leggo non importa nulla se non come indice del fatto che sono riuscita a dedicare tanto tempo alla mia passione principale come vi ho raccontato purtroppo di tempo ne ho più di quanto mi sarei immaginata e da dedicare a questa passione non in generale perché per il resto riesco abbastanza a riempirlo con tutte le attività di una normale vita quotidiana ma questo tempo in più che purtroppo mio malgrado non volendo mi sono ritrovata tra le mani l'ho investito principalmente nella lettura perché mi sembrava il modo migliore per prendermi cura di me quindi ho letto 40 libri fino ad ora probabilmente arriverò ad 80 se la situazione è questa e prosegue così qualsiasi numero va bene come dico sempre quando i numeri sono un po' alti è perché magari qualcosa mi ha spinto a rifugiarmi un po' in me stessa e in questi mesi insomma è quello che è successo però vi terrò aggiornate soprattutto e aggiornati soprattutto sui titoli che ho messo nella lista dei titoli che voglio assolutamente leggere entro fine anno ci sarà poi di solito lo faccio verso novembre end of the year book tag e il motivo per cui lo faccio a novembre è che ci sono delle domande su libri che si vogliono ancora leggere e quindi cerco di darmi almeno al mese di dicembre per realizzare quei programmi di lettura io vi lascio tutte le domande qui sotto non taggo nessuno perché questo di solito è un book tag che fanno un po' tutti ad un certo punto in queste settimane però se non avete un canale e volete rispondere a qualcuna delle domande soprattutto quelle su libri più belli letti finora libri più deludenti insomma chiacchieriamo qui sotto perché lo spazio è tutto vostro io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi come sempre per il vostro tempo il vostro affetto, tutti i vostri commenti e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao